Non si placano le polemiche all'interno dell'Assemblea regionale siciliana sulle responsabilità nella gestione del covid in Sicilia e sul rispetto dei parametri di un decreto di sette mesi addietro che hanno indotto il governo centrale a stabilire zona arancione il territorio della Sicilia. Ed infatti mercoledì in aula è atteso uno scontro durissimo tra opposizione e maggioranza su una mozione di censura presentata dai deputati del PD e del Movimento 5 Stelle contro l'assessore Ruggero Razza. Oggetto sono i 21 parametri previsti da un decreto adottato sette mesi fa visto che l'indice rettira alto, i tamponi erano insufficienti come le terapie intensive e subintensive di posti letto ed era quindi saltato il tracciamento. Giuseppe Lupo, capo dell'opposizione all'Assemblea regionale siciliana, ha presentato con i colleghi del Movimento 5 Stelle Pasqua e del Movimento 100 Passi Claudio Fava la mozione di censura ospicando che altri partiti e i uomini di coscienza la votino. I posti letto non ci sono, ha detto Pasqua, perché mancano i medici, la cui assunzione andava fatta nei mesi scorsi. La stessa cosa per le USCA e questo è un errore dell'assessore e dell'assessorato alla salute. La nostra mozione andrà avanti anche se ci sarà l'ispezione disposta sul caso da parte del Ministero della Salute che rischia di trasformare la Sicilia in zona rossa. Fava dei 100 passi si è soffermato ancora sull'audio del burocrate Mario Larrocca che sollecitava dirigente e manager delle Aspe a caricare i dati sulla piattaforma della regione siciliana. Un dirigente che sappia di cartelle cliniche manipolate, ha sottolineato Claudio Fava, deve assolutamente fare subito i nomi perché c'è un attentato alla salute dei cittadini. Faccia in nomi dei medici e li faccia alla procura. Se ci sono manager che si voltano dall'altra parte e non sono all'altezza della situazione, nominati da questo governo regionale, vanno rimossi, vadano a casa, ha concluso il deputato Claudio Fava.